non so però se no è il 4 è andato a vogliere anche se in realtà potremmo fare un turnino abbastanza potente giocando al geyser troppo fortino lui meno si buffa fine 3 in faccia honestly turno 3 noi ce l'abbiamo questo è bellino andiamo face tanto fare il value lì non è che era cosa importante ok mega fastidioso ok noi abbiamo già qua la combo ma vabbè qua ovviamente andiamo di questo e andiamo di questo quindi è un elementare quindi ci siamo di brutto combo di danni ne abbiamo ah ce ne sbatte ampiamente resto fortissimo non mi sta sovraccaricando di nulla vediamo se non è proprio il massimo vanno a cercare di portargli dei cazzo di danni face bravo bravo qua sicuramente va a tradare e invece no deve tradare col boom va bene va bene uff random uno di meno forse sai che c'era più senso tirare fuori lui parca trae c'era molto più senso però va bene così danno ne abbiamo ma non è una sufficienza qua lui quanti ne può tradare tanti no tutti mi sa che trada che sfiga o però va bene non è che sia un problema così infinito ok ottimo giochiamoci anche a lui per avere un trade in più sono 8 e 8 quindi sono tipo 16 danni noi potremmo giocarci loro due a 8 e 8 che sono comunque vari danni ok questo è fastidiosissimo allora io farei ma io farei di questo loro due tanto crepano instant quindi un bel chi se ne frega però vediamo magari ci tira giù qualcosa faccia bene vabbè peggio del peggio però almeno un po' di danni face le abbiamo portate 9 9 18 8 9 più 9 18 19 20 19 20 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 21 22 23 24 25 10-10 dovrebbe assolutamente bastarci 10-10 dovrebbe essere lì tal 100% almeno che non ce lo trova lui ok cazzo che trova lui porca troia gg per lui e la torna dopo ce l'avremmo avuto noi bye game non gioco il demon hunter dalla notte dei secoli gioia gioia finisce ora io cerrei questo turno 1 a me pare interessante poi ovviamente primo game non ero più valida idea se non è worth anche perchè sennò dopo ora che va via perdo turni e lui potrà dare porca la troia porca la troia vabbè abbiamo un turno 2 che non volevo avere vediamo di 2-3 dai io c'ho armi qua c'ho un peschino io farei questa questo sicuro c'è l'olio di serpente ok ok non ce la giochiamo così ma questo non è un pirata ma vaffanculo eh io non ho capito come si prende ah oh che cazzo sei vaffanculo 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 tu sai che comunque mi manca il mio secret mi manca tanto Grazie a tutti. Ok, dopo lo faccio. Ma perché non ci avevo niente nei pacchetti prima? Non ci avevo niente. Basta! Oh madonna, che nervoso! Dai, Marine, dacci... Vabbè, dobbiamo sperare di scugare. E ole! Vabbè! 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 Forse non è male questa roba che è uscita. Forse... Direi vaffanculo. Tu lo diresti vaffanculo? Certo che lo diresti. Non ci lascia indietro nessuno, dicevano! Vabbè! 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 photonica che.. GNERVA! Oh! Sono sfiga. Hmm... Nooo. ... Contro. Bohynamic! Boh quiz... Allora. Certo. E... riesco! sicuramente abbiamo più turni qua sicuramente giochiamo queste qua che ci dà paglio 5 di armor così almeno puoi tradare questo qua è bello gogliardico ed è anche paglio aggrato qua stiamo aggrando ok quindi prossimo turno qua porcate ce ne fa noi andiamo a pescare così magari anche lui non ci crepa e questi sono bei danni sette danni face potremmo quasi andare a portarglieli forse non ha una carta in mano così interessante lui invece ha avuto brawl onesta io farei curva di turno che sono comunque un bordello di danno e non è per niente male signor lotus buonasera bello che due coglioni quindi ha sculato tipo un drago incomodo sto stronzo aspetta appunto bravo che mi stavo già cagando in mano che non mi hai preso più quello stronzo il quattro mano ormai da una value della madonna ok questo è worth per noi ne voca 5 quindi io direi qua andiamo a far di questo andiamo a tirare così e andiamo a far di questo sinceramente a me fa schifo board non regge mai so sfigato io lo vedi come va niente di bello qua io non so neanche che cazzo fare boh ah boh secondo me non c'è più play da fare qua a me non piace non so la combo è lentina come aggro secondo me è lento cioè qua non ho wing condition a me non c'è più Grazie a tutti 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 Troppo lento Signor Lotus me ne devi consigliare un altro Non mi da vibes Word Grazie a tutti Non ci permetterà mai di consigliare un altro Non è per cattiveria eh però Non è sicuramente la carta che ci permette di turnare il game Nooo un po' e come agro non ho mai vinto, ho sempre vinto con la combo e la combo è lentissima poi come vedi non pesca sto mazzo, cioè pesca per l'amor di dio pesca pochissimo eh un po' pesca però c'è niente di che non lo sento quel mazzo che dice cazzo c'è un wirret della madonna quella è la cosa strana a me non gira a me non gira sto mazzo va bene che l'abbiamo pagato talmente poco però cioè adesso che non si vince a bronzo